Sosteneteci chiaramente e vi aspetto soprattutto per trascorrere questa domenica insieme e augurarci di poter fare sempre meglio sul nostro territorio e per il nostro territorio. Ritorna la marcia di Braccialetti Rosa, ritorna la marcia per le donne. Braccialetti Rosa ogni anno organizza, purtroppo siamo stati fermi per due anni ma adesso riprendiamo alla grande, organizza questa marcia innanzitutto per dire ok noi ci siamo sempre, siamo al vostro fianco, siamo presenti sul territorio. Come sempre viene organizzata a maggio, in particolar modo la seconda domenica di maggio perché è la festa della mamma quindi festeggiamo le donne ma in particolar modo festeggiamo le mamme e quindi io vi aspetto tutti quanti domenica 14 maggio dalle 8.30 alle 10 ci sarà il solito raduno, questa macchia rosa, questo fiume rosa di persone che farà questo tragitto partendo da piazza Gramsci, facciamo via Roma, parte del Corso Campano fino ad arrivare all'altezza della Vila Comunale, via degli Innamorati, ci fichiamo una benedizione al volo a San Pio X e ci fichiamo come sempre perché Don Francesco ci appoggerà sempre e poi arriviamo alla sede dei Braccialetti che appunto avvia Mario Pinozzi. Braccialetti Rosa è un'associazione che è ormai sul territorio da 8 anni per coccolare le donne, per prenderci cura delle donne e quindi sia le donne vittime di violenza che le donne, le malate oncologiche praticamente per accompagnarle nel percorso della chemioterapia sia regalando, donando loro una parrucca sia con un sostegno psicologico ma anche con tutta quella parte burocratica che i nostri avvocati insomma in genere se ne fanno carico. Sosteneteci chiaramente e vi aspetto soprattutto per trascorrere questa domenica insieme e augurarci di poter fare sempre meglio sul nostro territorio e per il nostro territorio.